Salve a tutti, sono Bels e siamo qui con The Island E ovviamente il nostro amico Polipo Pavero di certo no Vabbè, Nestor, benvenuti sull'isola Qui troverai tutti i mostri che ha Beh, diciamo che ha incontrato nel gioco Ma i mostri sono i pigri Sono pigri Li faccio sgobbare per lei Ora potrebbero anche fare dei regali Ma che regali? Mi piace questa cosa Entra, X Allora, segna lavoro Questo è il vortice Ok Lascia che le presenti Mr. Tentacle Perché tu che sei Un J. Tentacle pur tu Lui è il suo episodio di tutti i mostri E fa gli interessi Fico Buongiorno padrone Lascia che le spieghi velocemente Perché lei è così sveglio padrone Come si fa a gestire queste creature? Grazie Ci ha dato del deficiente in pratica Ah beh Assegna lavoro Si assegna un lavoro anche a te Eccoci qui Da qui potrai gestire tutto in maniera facilissima Ok La miniera Il maniero Il laboratorio Il porto Posti bellissimi C'è da divertirsi Guarda Non aspettavo altro In ogni quadro Troverà uno specifico regalo Che potrà usare nel gioco principale Mi piace Questo mi piace Nella maniera Troverà dei soldi Nel maniero Verrà donata dell'energia Nel laboratorio Ci sono oggetti per il negozio E dal porto Troverà molte sorprese Voglio le sorprese Devi solo Assegnare I mostri I quadri Usi Per determinare Il numero Dei mostri Che vuole In ogni quadro Va bene Quando è finito Può confermare la sua scelta Premendo Ah Faccia pure Vada Va bene Ok Ok Cetto Cetto Vabbè Basta così Basta Ok Ecco fatto Ora tutti i mostri Sono all'opera Ottimo lavoro Grazie Può lasciare Può lasciare l'isola In qualsiasi momento E tornare Quando ne ha voglia Anche solo Per ritirare il suo regalo E ci mancherebbe Che non vengo Ah Scemo Se le piace Guardare i mostri Mentre sgobbano per lei Faccia pure Prema B E si Guardare le loro fatiche Ok Vista completa Signore Signore Stanno accadendo cose strane Si stanno aprendo Dei nuovi quadri Davvero Vado a vedere Cerchi le icone Nuovo Cerca un quadro X Buon divertimento Vorrei proprio Essere al suo posto Beh 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 Non ne parliamo Ok Andiamo in spiaggia Visto che Quest'anno La vedo Per binocolo La spiaggia Marduk Non mi vuole portare Al mare È cattivo Ok Ok Questo è Quinfer Che fa Hola hola La 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 Questo chi è? Questo è Hildan Che pulisce Che pulisce 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 Frati ma ci sono le rivot Tic 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 Niente Non reagisce Ok E questa Questa È fra La ragazza di Hildan Che fa i cocktail Tato Tato Ok Ok Dopo queste cazzate Vediamoci in giro Oh Che cos'è? Ho io questo Ho io questo Poi 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 Acqua 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 Ah Questa è Una sorta di penisoletta Cosa per tuffasse Uno squalo barca Una barca pesce Un pesce barca Vabbè Penso che la spiaggia sia conclusa Qui Ok Adesso è rimasto Il porto Ok Vediamo il porto Porto Non possiamo vedere il porto È bloccato Non ho visto C'era Un lucchetto Oddio sta mongolfiera Ne vogliamo parlare ragazzi Guardate questa mongolfiera Ovvio Dio Vabbè Andiamo avanti Ok Andiamo alla miniera Dove ci sono i veri scobbatori Andiamo a vedere I scobbatori Ok Qui ci sta il coso Ok Vabbè Lavoro Vai Bravi ragazzi Andate a lavorare Bravi Già l'avete finito Ammazza No 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 Sono due le cose Oh qui si imbrogliano Oh Gentaccia Hai stato a fare Il festino I te lavora Ecco Ah si mettono in fila Ma guarda che bravi ragazzi Oh Questa sta a trivella Oh Bravi Ok 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 Continuiamo il nostro giro turistico Per l'isoletta Penso che la miniera Sia uno dei posti più noiosi Quindi B Non mi fa uscire Ti ho detto B Ok Ok Andiamoci a vedere la torre Fai calmare i tuoi mostri Dovevo capirlo così Non penso Sono mostri Oh C'è di nuovo Hildan Ah Ciao Hildan Ciao Ok Ci sono gli schermi C'è tipo un'aria festini E c'è Non lo so E questa è la sala mia Ovviamente Mi pare il minimo Mi pare il minimo Ok andiamo a B E andiamo a vedere Il maniero Andiamo nel maniero Ok 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 Oddio Quello si è dato fuoco Questo si è frullato Quello Sì Va bene Ok direi che questa struttura è ancora più noiosa dell'altra Andiamo Andiamoci E il laboratorio è chiuso Cioè la parte più interessante che ci poteva dare qualcosa Niente Vabbè E niente Allora facciamo esci Usciamo da questa bellissima isoletta Che ci ha dato un momento di estate Anche per coloro che non si sono allontanati da casa E penso che sia tutto per questo piccolo episodio E ci vediamo con il continuo della serie Ciao ciao Al prossimo video Al prossimo video